Il generale d'Italia New York, con due parole, I will be very fast, 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 non worry, like you, anche per non addormentare il mister. Credo che questa sera, qui da Pepolino, che ha più o meno la stessa forza iconica del Times Square, ci festeggia una grande e bella giornata di orgoglio italiano, di orgoglio italiano declinato nei colori Viola, qua dal Club Viola di New York, e sono molto felice che questa sia una delle tante belle associazioni italiane di New York, una giornata pazzesca, favolosa, perché quello che avete fatto a Times Square, a Nasdaq, credo che sia un orgoglio non solo per i tifosi della Corentina, non solo per la nostra piccola Viola, ma per tutti gli italiani di New York. La prima volta il Nasdaq è il simbolo dell'innovazione, della tecnologia, della borsa, e quindi grazie Presidente e grazie Mister. Io credo che da oggi, insomma da 12 giorni, l'Italia e New York sono collegate da un ulteriore poste. Brava, grazie. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti i colori Viola, mi piace moltissimo a tutti i fosi Viola, ma mi piace a tutti gli italiani, è un ulteriore rafforzamento della vicinanza, e tutto questo grazie alla, insomma io non voglio ripetere, tutto il curriculum del Presidente, lo conosciamo, lo conosciamo bene, vorrei sottolineare questa enorme passione, che è così italiana, così calabrese, ma così italiana, che il Presidente commisso ha, e che ha dato tanto a New York, questa storia della Columbia, è qualcosa di straordinario, e che adesso darà tanto alla Fiorentina, e questa voglia di restituire, è una cosa bellissima italiana, è una cosa anche new yorkese, e credo che veramente il Presidente abbia, incorpori il meglio di questi due fantastici posti. Viva l'Italia, viva la Fiorentina!